Grazie Presidente, parlo ovviamente a nome dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica, ma mi occupo così un po' per hobby più che altro di suoli, perché come amo dire ai miei studenti senza il suolo le piante non crescono, sembrerà una cosa banale ma non lo è tanto, perché di spreco di suolo anche in tutti i settori infrastrutturali se ne fa in abbondanza, la conservazione degli scotici è assolutamente carente e insufficiente in tutti i settori stradali, cave, discariche, quindi il suolo manca sempre poi quando c'è da fare questi ripristini, questi rinverdimenti. Già negli anni 80 si affacciava in Italia, ma diciamo di riflesso da altre nazioni, la centrale di ricerca era in Olanda, mi ricordo, il discorso dell'uso dei polimeri come ammendanti della struttura fisica dei suoli. Questa cosa non ha avuto successo in Italia, in Italia negli ultimi 30 anni, anche prima, si è continuato a fare uso dei composti internari e chi aveva la possibilità utilizzava il ciclo aziendale, quindi l'etame, nella migliore dell'ipotesi, ma naturalmente in misura limitata. sta tornando fuori questo discorso dell'ammendamento fisico dei suoli con le colture fuori suolo, cioè in serra, sapete benissimo, con sacchi che hanno all'interno dei substrati, c'è stato un convegno interessantissimo a Verona Fiere, assolutamente sconosciuto a questo mondo di cui noi facciamo parte perché è stato fatto a fini di agricoltura e questi due mondi devono incontrarsi a questo punto perché altrimenti non andiamo molto avanti. proprio sull'uso di questi substrati e c'è, molti presenti sanno molto meglio di me, anche tutta una normativa tecnica, se non ricordo male il decreto legislativo 75 del 2006, perdonatemi se la citazione è inesatta, che ha codificato ammendanti, substrati, eccetera, eccetera. Ciò è la fotocopia da qualche parte, assolutamente interessante. Bene, cosa c'entra questo col discorso dell'ingegneria naturalistica? C'entra e come? Perché anche nell'ingegneria naturalistica si sta percorrendo delle strade che non sono quelle, diciamo, originarie delle palificate in centro Europa, delle gradonate vive con i salici, che è per dirne una, quella delle coperture a verde pensile, in cui si usano praticamente gli stessi substrati che sono messi dentro nei sacchi su cui si coltivano i pomodori o poco via. Quindi l'incontro tra questi due mondi va assolutamente favorito e auspicato ma ci sono anche delle frontiere di ricerca, si parla dell'uso dei biochart, tutte cose che devono assolutamente essere messe a sperimentazione. Questa cosa ha un titolo, si chiamano suoli tecnogenici e ha delle notevoli possibilità naturalmente di applicazione nel settore anche dell'ingegneria naturalistica. Le nuove PAC, come sapete, nel 2014-2020 favoriscono e finanziano quelle aziende che destineranno dal 5 al 7% delle superfici aziendali, specialmente si parla di territori collinari e montani come vocazione alla destinazione di biodiversità e non di produzione agricola. Bene, in questo penso che l'ingegneria naturalistica possa dare un contributo. Certo, i terrazzi sono fatti con muri a seco, sarebbe bellissimo ricostruire i muri a seco franati, ma non lo fa nessuno perché costa troppo questo. Beh, qualche sistema di mettere assieme, stabilizzazione e consolidamento dei terrazzi collinari, destinazione del tot per cento alla biodiversità, cioè a strutture di arbustive più che arbore, per conciliare con l'agricoltura. Tutto questo è assolutamente ormai disponibile nella cultura tecnica e trasformabile in progettazione. Ci sono migliaia di bravissimi tecnici che possono essere istruiti insomma a queste mediazioni. Segnalo che il CATAP, che è un coordinamento di associazioni tecnico-scienti, che conoscete probabilmente benissimo, Ambiente e Paesaggio, organizza per il 19 giugno un convegno specifico su questo, in cui ci permetteremo di invitare anche Ispra, comparirà sul sito catap.eu. E vorrei chiudere, ma chiudere per modo di dire, dicendo che c'è un settore che sta venendo fuori e che ha motivi ormai di urgenza, che è quello della segregazione del carbonio, legata a tutto quello che ho detto prima. Cioè, nuove zone da forestare non ce ne sono, anzi se ce ne sono zone libere verranno messe a cultura, non certamente a forestazione, oppure in misura molto ormai limitata. Dove si potrebbero trovare degli spazi nudi, quindi di suoli nudi da forestare, nel senso di da destinare a segregazione di carbonio? Beh, in tutti i settori infrastrutturali, scarpate, stradali, ferroviarie, cave, discariche e quant'altro. Si può stimare un 4-5% della superficie del territorio nazionale, se fate le moltipliche, notoriamente ci sono valori standard acquisibili 7,5 tonnellate etaro anno e vengono fuori delle cifre interessanti. Su questo, e chiudo, c'è il discorso dei carbon credit, bisogna assolutamente darsi immediatamente da fare. Il problema è conciliare tutti questi settori che al momento sono un pochettino frazionati. Grazie. Bene, con questo io ho solo pochissime parole, nel senso che ci ringraziamo reciprocamente di esserci ascoltati e di esserci confrontati. Per quattro parti avremo condiviso, per quattro parti no, ma ci rimandiamo al prossimo appuntamento che creeremo. Grazie a tutti quanti. Grazie a tutti.